Sono 51.208 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in tutta Italia in base all'ultimo bollettino del Ministero della Salute, con il dato regionale che parla di 3.521 nuovi casi. Nel territorio nisseno sono stati 161 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 50 sono di Gela, 46 di Caltanissetta, 15 di Niscemi, 11 di Butera, 11 di San Cataldo, 7 di Riesi, 6 di Mazzarino, 3 di Bonpensiere, 2 di Milena, 2 di Montedoro, 2 di Mussomeli, 2 di Vallelunga, 1 di Santa Caterina, 1 di Serra di Falco, 1 di Sommatino e 1 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Gela, 1 di Santa Caterina e 1 proveniente da fuori provincia, mentre è stato dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di San Cataldo guarito virologicamente. Due i pazienti deceduti, 1 di Mazzarino e 1 proveniente da fuori provincia, positivi al SARS-CoV-2. Sono invece 225 i guariti, 75 di Gela, 69 di Caltanissetta, 22 di Mazzarino, 10 di Campofranco, 9 di San Cataldo, 8 di Riesi, 7 di Serra di Falco, 5 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Niscemi, 3 di Milena, 3 di Santa Caterina, 1 di Bonpensiere, 1 di Delia, 1 di Montedoro, 1 di Sommatino e 1 di Vallelunga.